Noi, Decio Rossi! Ora vi racconto questa storia. Marito e moglie. Marito e moglie stanno litigando furiosamente. Lei? Ehi, adesso basta! No, basta! Se dici un'altra parola, io prendo e me ne vado da mamma! Il marito... TARCI! TARCI! Avete capito perfettamente, eh? Non ha bruciato tanto tempo. Anche lui, quando ha sentito quelle parole, eh? Io me ne vado subito e ha detto, ma io adesso ho quello che cerco io. Grazie! A voi Decio Rossi ha fatto la prima...